In occasione della giornata dedicata a meraviglie segrete, che ha dato la possibilità di visitare diversi giardini piruati nel territorio non avvennate, abbiamo intervistato il proprietario del parco situato in zona San Marco. Giordano Bezzi ci ha illustrato i progetti artistici che intende realizzare all'interno del suo parco. Stiamo carpestando un quadro, noi siamo qui dentro un quadro e non gli facciamo male perché c'è l'erba, ma questa rosa fa parte del quadro di Monet, La signora in giardino, che è collocata in quel posto lì e tutto lo sfondo, ci abbiamo messo 15 anni per farlo, è stato rivolto per fare questa realizzazione, cioè un quadro di Monet nel reale. Come è nata l'idea? L'idea, è difficile di come nascono le idee perché mi vengono la notte spontanea, quindi io non dormo certe notti e quindi le accumulo tutte e le metto nel cassetto. Una di queste era fare Monet, uno perché Monet è uno degli autori che mi è rimasto impresso, sia come personaggio che come ovviamente intensità, ma anche di tanti altri. Però i suoi colori, le sue affinità con la natura ovviamente mi hanno fatto sì di avvicinarmi molto più velocemente facendo queste opere. Ci sono quattro quadri. Quali sono questi quattro quadri di Monet? Allora, qui siamo sulla Donna in giardino e poi c'è il ponte di Monet. La Donna in giardino è al 90%, quindi noi dobbiamo andare dietro alla temporalità della natura. Quest'altro anno ci siamo perché l'altezza ci sarà, il ponte di Monet è in costruzione, c'è lo sfondo, ma manca il ponte, sarà pronto alla fine dell'anno. E gli altri quadri ovviamente sono Donna nel campo con uno sfondo aperto e alla fine c'è la cattedrale di Rouen che l'ho piantata praticamente quest'anno, ma è una sfida, ma vi aspetto per vedere appunto gli esiti di questa sfida qualche anno più avanti. Quali sono gli altri segreti che sono racchiusi in questo parco? Molti non li conoscono neanche io perché qualche aduna deve saltarmi fuori nei prossimi anni di venire, ma ce ne sono molti altri che stanno camminando insieme ai quadri di Monet. Uno è certamente lo sviluppo di tutta l'area del parco con delle potenzialità di aggregare vari artisti, fare una galleria a cielo aperto di arte contemporanea, prendere specialmente i giovani e le scuole, altre sono il parco di Dante perché è un'associazione che è il Cammino di Dante, un trekking che va fino a Firenze, altre sono dei percorsi tematici ovviamente filosofici che portano tutti all'uomo, ma ce ne sono tante altre. L'importante è rimanere a contatto con la natura perché è questo il più grande stimolo che può portare e può dare agli artisti, questo è stato spiegato da vari autori nel secolo, e la natura è un elemento importante da non lasciare, neanche di fronte alle seduzioni della tecnologia. quindi io alla natura cerco di collegare tutte le mie ispirazioni e tutte le altre segrete, che non ve le dico tutti certamente.